Buonasera, buonasera, naturalmente ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del sabato con Nerus Bianco, come sempre servizio e curiosità nell'ambito del nostro programma che apriremo con un inseguimento da film, quello che si è verificato a Iesi a seguito di un furto al centro commerciale ipersimpli. E poi la storia di Simone, ce ne avevamo occupati alcune puntate fa con Nerus Bianco, il bambino maceratese gravemente ustionato con costi altissimi per curarsi, ora un blitz delle iene e sembra tornata la speranza, noi abbiamo intervistato la mamma Tiziana. Parleremo poi di mancamarche perché nonostante l'operazione di salvataggio ancora ci sono tante perplessità a riguardo e soprattutto per quello che concerne il futuro dei piccoli azionisti perché sono quelli che hanno il conto più salato da pagare, noi abbiamo intervistato a riguardo il presidente dei piccoli azionisti. Poi in chiusura andremo a Mozzano, una frazione di Ascoli Piceno per farvi vedere uno dei tanti gioielli delle Marche, questo è veramente bellissimo, una piccola chiesa che ora si cerca di salvare, si cerca di tutelare in tutti i modi. E allora come sempre servizio e curiosità con Nero Subbianco in apertura, andiamo con Caterina Cantori a Iesi dove si è verificato veramente, viene da sorridere ma c'è poco da sorridere, un inseguimento da film a seguito di un furto, guardate. Un inseguimento da film in pieno giorno, quello che ha visto come scenario Iesi e protagonisti due giovani giostrai inseguiti dai carabinieri dopo un furto all'Ipersimpli. Tutto comincia verso mezzogiorno quando i due giovani di 21 e 24 anni, rispettivamente di Iesi e Recanati, prendono dagli scaffali del supermercato due bottiglie che nascondono in un borsone. La mossa viene intercettata da un addetto al controllo che tenta di bloccarli all'uscita delle casse, ma i due lo spingono energicamente e guadagnano la via d'uscita, salgono in auto e tentano di dileguarsi, non prima di aver rischiato di investire l'addetta alla sicurezza. La loro strada viene sbarrata da una pattuglia dei carabinieri, che però viene aggirata con una manovra repentina. La fuga dei due dunque continua a folle velocità lungo le strade Iesine. Una velocità incredibile, tant'è che ha messo in pericolo la circolazione stradale, l'incolumità di alcuni utenti. Dopo circa una decina di minuti, l'autoradio, scegliendo un percorso, costringendo questa macchina ad intraprendere un percorso meno pericoloso, riesce a bloccare questi due e quindi le arresta per rapina. Durante la corsa i due pensano bene di sfarsi anche della rifurtiva e la lanciano dal finestrino, colpendo un'auto in sosta. Immaginate cosa fosse accaduto se la borsa avesse colpito un utente o comunque un cittadino, qualsiasi persona che in quel momento si fosse trovato lì in quelle vicinanze. Durante la perquisizione gli uomini dell'arma trovano altre bottiglie di superalcolici, rubate poco prima in un altro centro commerciale di Iesi. I due sono accusati di rapina e furto in concorso. Ora, nei loro confronti, il pubblico ministero ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ed ora invece ci occupiamo di Simone, torniamo ad occuparci di Simone, il bambino macerattese gravemente ustionato a seguito di un incidente che ha tantissime difficoltà per potersi curare per i costi altissimi. C'è stata un'irruzione delle Iene sul caso che hanno portato bene, come dice il loro slogan. Ora la mamma Tiziana torna a sorridere. L'Aas ha dichiarato alle Iene che loro entro gennaio riusciranno a vedere cosa riescono a fare per questa situazione. Io me lo auguro. Dove non erano arrivate le suppliche di una madre, né due interrogazioni parlamentari, sono arrivate per fortuna o purtroppo le telecamere, in particolare quelle della trasmissione le Iene, che se non altro hanno strappato un impegno da parte della politica regionale e in particolare dell'area vasta di Macerata. L'impegno è quello che le creme di cui Simone, sei anni, ha assolutamente bisogno per sperare in un futuro normale, siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Di anni ne aveva tre Simone quando rimase ustionato sul 70% del corpo. Da allora tanti interventi chirurgici e solo un punto fermo, ricorda la mamma Tiziana, l'uso di particolari creme che mantengono la pelle morbida, impedendo alle cicatrici di spessirsi. Per Simone è fondamentale questa pomata, perché purtroppo lui, se non mette questa pomata, le cicatrici devono spessissime. Anche per i movimenti non andrebbe bene. Eppure queste creme sono classificate estetiche e non farmaci, per cui il loro costo, 1.400 euro al mese, è da sempre a totale carico della famiglia. Ora, grazie alle iene, è arrivata la promessa di Alessandro Maccioni, direttore dell'area vasta di Macerata. Entro Natale sarà predisposto un atto amministrativo che metterà le cure a carico del Servizio Sanitario regionale e nazionale. Una notizia che, se non altro, ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla famiglia di Simone. Di sicuro non c'è niente, soltanto io so che Simone deve operarsi il 14 di dicembre e gli interventi sono lunghi, le pomate ancora le stiamo pagando. Adesso vediamo. Insomma, politica e burocrazia sembrano finalmente muoversi. Chi non si è mai fermata per aiutare Simone e la sua famiglia è stata grande parte della comunità maceratese. Quello che dovrebbero fare quelli dell'alto lo stanno facendo gli altri. Per esempio, domani sera c'è una partita a Tolentino e è una cena di solidarietà per lui. Il 5 dicembre ci sta una cena organizzata da Marco Moscatelli con Lando Eddino e altri personaggi, sempre per accogliere fondi, soprattutto per gli interventi. E adesso invece ci occupiamo di Banca Marche, una tematica che nella nostra regione tiene banca ormai da alcune settimane, operazione di salvataggio concretizzata, ma ci sono ancora tante perplessità. Ci spiega Stefano Berciaroli. Come era prevedibile, anche se non auspicabile, il salvataggio di Banca Marche a costo della perdita del valore delle sue azioni, che ha penalizzato tanti risparmiatori, sta creando tensioni e preoccupazioni. I primi a denunciare la situazione che si è venuta a creare sono i dipendenti, tanto che i sindacati aziendali hanno scritto una lettera congiunta ai vertici della nuova Banca Marche, S.P.A. Per segnalare, citiamo testualmente, le difficoltà che il personale, in primis quello a diretto contatto con il pubblico, sta incontrando nelle relazioni con la clientela e soprattutto con i detentori di azioni e obbligazioni subordinate. I clienti, molti di quali hanno perso i risparmi di una vita, si sentono traditi e chiamano direttamente in causa chi sta di fronte a loro. Sono i dipendenti, spesso assolutamente strani agli investimenti, diventati carta straccia i loro interlocutori. Tutto questo, è detto nella lettera, sta dando luogo ad un peggioramento della relazione con la clientela ed espone i lavoratori a rischi anche personali. Inutile aggiungere che non si vuole né si deve militarizzare gli sportelli di Banca Marche, ma un sostegno al personale va comunque dato sia sul versante dell'informazione che su quello della predisposizione di adeguati strumenti di risposta alle proteste della clientela. Preoccupazione anche per il mantenimento dei posti di lavoro, visto che dopo questa batosta non sarà facile conquistare la fiducia della clientela. Intanto si moltiplicano le iniziative per cercare di far recuperare soldi agli azionisti. Partiti, ovviamente quelli di opposizione regionale, sindacati, associazioni dei consumatori, sono in movimento. Si preparano ad avanzare ricorsi giudiziali, con quale risultato però al momento è proprio difficile immaginare. E il prezzo più salato da pagare per la vicenda di Banca Marche lo stanno subendo i piccoli azionisti. Allora con Claudio Colotti siamo andati a sentire il presidente dei piccoli azionisti di Banca Marche. Vediamo. I 43 mila azionisti privati sono stati derubati dei loro risparmi. È stata trarita completamente la loro fiducia. Ci va giù duro Bruno Stronati. Per il presidente dei piccoli azionisti quello di Banca Marche non è stato un salvataggio ma un furto. Un atto predatorio nei confronti dei piccoli azionisti che si erano fidati dell'istituto di credito ma anche nei confronti del territorio. Perché con l'azzeramento del valore, delle azioni e delle obbligazioni in loro possesso la cifra andata in fumo è da capogiro. Medio è intorno a 1,7 e 1,8. Se questo prezzo viene moltiplicato per i 409 milioni e 412 erotti azioni in possesso dei 43 mila azionisti questo comporta un danno intorno agli 800 milioni. Da quando il governo ha dato il via libera al decreto per il salvataggio di Banca Marche e degli altri tre istituti di credito, Stronati non fa che raccogliere le lacrime e la disperazione delle persone. E sia chiaro, non si tratta di traders pregiudicati ma di prudenti e spesso ignari risparmiatori che hanno perso i denari accumulati di generazione in generazione. Le azioni che ci sono state vendute e ci sono state sponsorizzate dai funzionari di Banca Marche sono azioni che c'erano state prospettate come azioni sicure in quanto non quotate in borsa, azioni che erano il salvadenaio per il futuro nostro e dei nostri figli. Proprio per questo, mille piccoli azionisti, nel caso in cui l'ex amministratore delegato di Banca Marche, Bianconi e gli ex dirigenti dovessero essere rinviati a giudizio, sono già pronti per agire in sede legale con azioni civili individuali. Lotteremo su tutti i fronti, su uno è quello di vedere se ci sono gli estremi per contrastare questo decreto e seconda cosa intensificheremo la nostra azione per riavere l'insarcimento del danno da coloro che hanno procurato questo disastro economico, che sono gli ex amministratori della Banca. E adesso invece con Silvia Barchiesi andiamo a Mozzano, una frazione di Ascoli Piceno, per farvi vedere le immagini di una chiesa bellissima, uno dei tanti gioielli delle Marche, assolutamente uno dei più belli, possiamo sbilanciarci, uno dei più belli in assoluto che ora si cerca in qualche modo di tutelare. Vediamo. Il tetto a trave è pieno di fessure e a rischio crollo, le pareti invece ricoperte di crepe che minacciano gli affreschi del Cinquecento. Per salvare dall'incuria e dall'abbandono la chiesetta di Vivatello, immersa nel verde dei boschi di Mozzano, è partita una raccolta fondi nazionale. A lanciarla l'Associazione Italia Nostra, che per caso si è imbattuta in questo gioiello intitolato San Michele Arcangelo e che ora ha cuore il suo destino. Quando noi siamo venuti qui la prima volta, per caso, in una passeggiata con amici, abbiamo visto questi affreschi praticamente sotto l'acqua perché il tetto è un po' franato e quindi piove direttamente sulla parete, diciamo, di fondo, absidale, dietro all'altare. Da anni chiusa perché inagibile, la chiesa rischia il crollo, mentre i suoi splendidi affreschi e la sparizione. Per riportare questo scrigno e i suoi tesori al suo antico splendore servono infatti 250.000 euro, 210 circa per la messa in sicurezza dell'edificio e una quarantina per il restauro degli affreschi, ormai in balia delle infiltrazioni d'acqua. Di qui l'appello di Italia Nostra, che da Ascoli si estenda a tutto il territorio nazionale. Con una piccola donazione sarà possibile far risorgere la chiesa e consentirne la riapertura. Sul sito dell'associazione, tutti gli estremi per aderire alla raccolta fondi. Per chi volesse donare, intanto, da non perdere l'appuntamento di sabato prossimo alla chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio di Ascoli, dove in occasione della presentazione del progetto di recupero verrà lanciata anche un'asta di acquerelli, il cui ricavato andrà a favore della chiesetta abbandonata. E con la piccola chiesa di Vitavello siamo arrivati al termine del nostro appuntamento del sabato con Nero Subianchi. Come sempre vi ricordo la puntata di domani, quella della domenica con Fabio Girolimietti, invece con il sottoscritto l'appuntamento è rinnovato, come sempre, per sabato prossimo. Arrivederci!